E TG più Today buongiorno e ben ritrovati con il nostro appuntamento del mattino. Come sempre in primo piano leggeremo e commenteremo assieme le notizie di giornata dalla cronaca alla politica passando per l'attualità. Questa mattina la nostra finestra dal territorio Lombardo si apre dalla fiera di Milano Rò dove per noi è collegata in diretta Silvia Legnani. Buongiorno Silvia, subita te la linea. Sì sì, buongiorno Vittoria, siamo qui alla fiera di Rò, stiamo attendendo a minuti l'arrivo della premier Giorgia Meloni per la firma di un importante accordo. Abbiamo qui con noi il presidente della regione Lombardia Tiglio Fontana che tra poco firmerà questo accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la regione Lombardia. Di cosa si tratta? Si tratta di un accordo che prevede per la regione Lombardia un miliardo e duecento milioni di fondi che verranno distribuiti. Per quanto a 710 sono nuove iniziative, 325 si riferiscono a cofinanziamenti di opere già previste e 185 sono per l'acquisto di nuovi treni. È un accordo importante perché mette in linea, fa in modo che siano compatibili tutti i tipi di finanziamento europeo, nazionale e regionale. È importante perché è un finanziamento che si riferisce a tre macro aree, tutto è molto importante perché sono infrastrutture, trasporti, università e rigenerazione urbana. Sono tutti interventi che ci consentiranno di migliorare ulteriormente l'attrattività della nostra regione, renderla più interconnessa e quindi più competitiva a livello europeo. Ha parlato anche di infrastrutture, trasporti, di nuovi treni, dunque si sta cercando di migliorare la qualità del servizio, insomma trenordi di servizi sono quotidiani. L'ho già detto tante volte e lo devo dire per l'ennesima, noi la nostra parte la stiamo facendo in maniera direi eccellente, nel senso che abbiamo investito più di 2 miliardi per acquistare nuovi treni e ne sono arrivati già più di 115. Il problema sono le infrastrutture che non dipendono da noi ma che sono di competenza di RFI, con la quale c'era un accordo che avrebbe dovuto prevedere l'investimento di 14 miliardi a partire dal settembre 2019. Purtroppo ad oggi non sono stati ancora realizzati questi interventi. Adesso ho rincontrato un nuovo amministratore delegato il quale mi ha confermato l'impegno da parte di RFI a fare questi interventi, perché il problema vero è che abbiamo una rete che è assolutamente non nelle condizioni di sopportare la quantità di traffico che si svolge sulla stessa. Quindi è chiaro che o si interviene, la si modernizza, la si raddoppia dove è ancora binario unico, la si attualizza da un punto di vista anche proprio tecnologico, o se no purtroppo i disservizi non si potranno eliminare. Un'ultima domanda sulla sanità. Nei giorni scorsi lo sciopero di medici e infermieri, 8 su 10 hanno aderito in Lombardia, grave carenza di medici, ad esempio in provincia di Como, mezzo medico ogni mille abitanti. Che cosa sta facendo Regione Lombardia anche per le liste d'attesa? Ma guardi, cosa sta facendo Regione Lombardia non può fare assolutamente niente. Noi non possiamo altro che dover subire quelli che sono stati gli errori degli ultimi 10 anni dei governi che si sono succeduti dal 2011 in poi, quando da un lato si sono fatti tagli sul comparto della sanità e poi si sono sbagliate le programmazioni per i numeri dei medici che si sono laureati e che dovevano specializzarsi. Chiaro, adesso c'è una carenza di fronte alla quale bisogna correre ai ripari. Però è chiaro che noi, più che bandire concorsi, se ai concorsi non partecipa nessuno, non possiamo fare assolutamente niente. Adesso il nuovo governo ha dimostrato fin da subito di rendersi conto di questa situazione, ha aumentato i numeri dei laureandi, degli iscritti alla facoltà, ha aumentato i numeri degli specializzandi. E' chiaro che però sono tutte anche queste risposte che si possono avere a medio termine, non è che i medici si formino in sei mesi, ci vogliono tanti anni. Sulle liste d'attesa posso dire che noi siamo la regione che sta andando meglio, anche qui tutto dipende dalla carenza di personale. La Lombardia subisce anche purtroppo i problemi della concorrenza che deriva dalla Svizzera, per cui dobbiamo contrastare anche questo fenomeno. Ciò nonostante proprio recenti articoli pubblicati dall'Agena, si evidenzia come comunque la regione della Lombardia è l'unica regione che rispetta i tempi nelle patologie gravi, nelle oncologiche, nelle patologie che hanno comunque una urgenza e stiamo migliorando anche sulle altre. E' chiaro che però con i pochi medici che abbiamo e con i pochi infermieri che abbiamo tutto diventa difficile. Grazie, grazie al Presidente di Regione Lombardia, Tilio Fontana, per essere stato con noi. Quindi stiamo attendendo a minuti l'arrivo della Premier Giorgia Meloni, tanti temi sul tavolo. Secondo il programma della mattinata, la Premier passerà proprio da questa passerella ingente la mobilitazione di autorità e forze dell'ordine. Passerà, dicono, senza fermarsi con la stampa, ma insomma noi ci proveremo. E poi sarà diretta nella sala dove potremo far vedere proprio la firma di questo accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo italiano e Regione Lombardia. Dunque ti richiederò la linea non appena arriverà la Premier Meloni. L'ignano e l'abbiamo sentito, il governatore Lombardo Attilio Fontana ha intervenuto sui temi caldi appunto sui quali si discute oramai i danni e che riguardano proprio il territorio Lombardo. In primis la questione del trasporto pubblico locale. Da Fontana ancora una volta parole nei confronti appunto delle infrastrutture, infrastrutture considerate non all'altezza appunto del passaggio ferroviario ingente che si ha appunto sul territorio Lombardo, di competenza come ha detto lo stesso Presidente di Regione Lombardia di RFI, la quale secondo un contratto, cito ovviamente quanto detto dall'intervista ad Attilio Fontana, avrebbe dovuto rimettere mano a queste infrastrutture. Già a partire da settembre 14 miliardi sono stati stanziati proprio per intervenire sulle infrastrutture. Poi 2 miliardi invece quelli stanziati dalla giunta Fontana per nuovi convogli, quindi nuovi treni. Nelle parole del Presidente abbiamo sentito toccare un altro tema caldo, quello che riguarda la sanità. Avremo un modo ancora di approfondirlo poi nella seconda parte della trasmissione. Nei giorni scorsi appunto lo sciopero dei medici, sempre più persone ricorrono al privato, una sanità che fa fatica appunto, una sanità in crisi, la denuncia che è arrivata appunto dall'intero comparto sanitario. In questo caso appunto il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato di interventi sia a livello regionale sia a livello nazionale per tentare di arginare la crisi e poi ancora una volta il fatto che la Lombardia è penalizzata in molti territori, territori di confine proprio per un'emorragia di medici e infermieri che ovviamente a tratti da salari più alti si spostano a lavorare oltre confine. Questo è il caso più eclatante ovviamente che molte volte abbiamo indagato è quello della Svizzera. Temi importanti, temi sui quali si discute da anni e sui quali però si fa fatica a trovare poi delle situazioni e soluzioni concrete per cercare di arginare i problemi. Come vi dicevo nella seconda parte della trasmissione avremo modo poi ancora di approfondire questi temi, sempre grazie agli esperti. Intanto passiamo alla rassegna stampa mattutina, in primo piano lo vedete del Corriere della Sera ancora un articolo dedicato ovviamente a Giulia Cecchettin con le parole del padre della ragazza Gino Cecchettin, il mio ultimo abbraccio a Giulia con le mani fasciate nella bara. Cosa deve cambiare adesso? Poi andremo a leggere anche le parole pronunciate dal ministro Nordio i femminicidi, siamo indietro sulla prevenzione. Il numero continua ad essere drammatico, molto da fare allo scopo di evitare più che di punire questi delitti. Ne arriva un vademecum co-grafica e termini molto chiari per illustrare segnali di allarme che una donna deve saper cogliere perché appunto il caso l'omicidio di Giulia Cecchettin ancora una volta ha aperto il dibattito sull'attenzione, sul fatto di non lasciare andare dei segnali, dei campanelli di allarme che potrebbero far capire che c'è qualcosa di più appunto come accaduto nel caso della povera Giulia. Andiamo sull'Ansa, un primo piano invece dedicato al ponte dell'Immacolata domani appunto 8 dicembre con i dati che sono stati appunto evidenziati dalla Confcommercio per il ponte, 7 milioni in viaggio, il 18% in vacanza all'estero nel weekend lungo dell'8 dicembre, almeno una notte strutture turistico-ricettive e case in affitto breve, numeri in linea con il 2022 ma si riduce la spesa, su questo evidentemente pesa comunque la scure diciamo dell'inflazione, lo abbiamo visto con i prezzi in i rincari che si sono spalmati bene o male su ogni genere di bene. E poi ancora torniamo a parlare del conflitto in Medio Oriente con le parole di Blinken da Israele, i passi importanti per proteggere i civili e poi l'assalto finale a Khan Yunis, cazzo al leader di Hamas, Sinwar. E poi ancora l'incontro a Prechino con il vertice con Xi, von der Leyen, risolvere gli squilibri che ci sono appunto tra Unione Europea e Cina. Andiamo su Repubblica, un primo piano invece dedicato alla politica, alla misura, via libera del governo ad un mega sconto di 450 milioni sulla tassa per gli extra profitti delle società energetiche e poi ancora l'analisi che riguarda il PNRR e l'Italia indietro con i progetti e invece un articolo che riguarda il dibattito in Senato, il governo inciampa su quattro emendamenti e la manovra slitta ancora, riferimento alla manovra finanziaria, legge di bilancio nella giornata di ieri, il governo ha presentato quattro nuovi emendamenti, alcuni poi tra l'altro, uno in particolare sulla Previdenza con la revisione del calcolo delle pensioni in riferimento al personale sanitario. Quindi evidentemente in questa direzione sembrerebbe aver ascoltato gli appelli che sono stati lanciati appunto durante lo sciopero dal personale sanitario, medici e infermieri. Andiamo avanti sempre su Repubblica, ancora una volta il femminicidio, con il racconto, ci aiutano anche le foto in questo caso, la stanza di Giulia Cecchettini, i libri, i disegni iniziati, il tempo fermo alla sera in cui è sparita. E poi ancora i messaggi di Turetta, Filippo Turetta, la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, falle accendere il telefono, non può non filarmi per tutte queste ore. Un articolo appunto di un inviato della Repubblica e poi il rapporto violenza economica, una donna su due ne è vittima e dopo il divorzio aumentano gli abusi. Questo è un altro tema che comunque si inserisce all'interno della violenza contro le donne. Siamo su open.online, in primo piano ancora il caso che riguarda Giulia Cecchettin, anche in questo caso con i messaggi whatsapp di Filippo Turetta, mandati appunto alla sorella della ragazza, Elena, e l'accusa di stalking. C'è anche un audio in cui lui parla dei gusti dell'ex fidanzata, l'indagine e la grande punto, l'auto nera, ricorderete, che è stata seguita subito nei primi giorni, nelle prime ore della scomparsa appunto della ragazza. E poi si va avanti invece con la politica, siamo sempre nell'home page, il ministro Crosetto ha ascoltato come testimone in procura a Roma dopo le frasi che aveva rilasciato sui giudici, in particolare sulla magistratura, l'inchiesta su Crosetto, il ministro, qual era il giornale, poi il caso del gioielliere condannato, il risarcimento ai parenti dei ladri, non ho più un soldo, mi hanno chiesto 3 milioni, un caso che ha fatto molto discutere. Chiudiamo la rassegna stampa con il sole, 24 ore, lo vedete, un primo piano dedicato all'America, gli USA, repubblicani, Haley domina il quarto duello TV, basta con il caos Trump, e poi i dati stati invece sull'industria, produzione in calo dello 0,2% nel mese di ottobre, meno 1,1% rispetto allo scorso anno, quindi al 2022, e poi ancora per quanto riguarda gli esteri, la notizia del vertice, lo abbiamo visto tra Xi Jinping e la leader europea Ursula von der Leyen, gli scontri bloccano aiuti a Gaza, perché nella questione ovviamente intricata c'è anche quanto previsto per il supporto umanitario per quanto sta accadendo in Medio Oriente, per il conflitto in Medio Oriente. Allora, andiamo a leggere subito le notizie che riguardano ancora una volta il caso di Giulia Cecchettin e soprattutto quanto è stato detto dal ministro Nordio sui femminicidi, ha detto siamo indietro, sul punto della prevenzione. Il numero continua ad essere drammatico, molta strada da fare allo scopo di evitare più che punire questi delitti, in arrivo un va de mecum con grafica e termini molto chiari per illustrare i segnali di allarme che una donna deve saper cogliere. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, in commissione di inchiesta sul femminicidio, ammette la sconfitta delle strategie preventive, assicura il forte impegno del governo per mettere a punto una più efficace, in arrivo un osservatorio sul fenomeno e ancora un va de mecum con grafica e termini molto chiari per illustrare i segnali di allarme che una donna deve saper cogliere. E poi ancora sulla questione che riguarda il patriarcato, riconosce che si è sedimentato per millenni nell'animo dei maschietti. Queste le parole utilizzate dal ministro e sottolinea che arrivano in Italia persone abituate a concepire la donna come una cosa, un oggetto per loro, un atteggiamento che noi riteniamo criminoso, è quasi inesplicabile, che venga punito. E poi ancora l'audizione dedicata a Giulia, l'apertura dell'audizione il ministro la dedica appunto alla ragazza uccisa, Giulia Cecchettina, la grande emozione provata al suo funerale, doppia perché ricorda il guarda sigilli trevigiano PM per 40 anni a Venezia, quella è la mia terra, ma invita a mettersi anche nei panni dei genitori di Filippo, in una situazione straziante quasi quanto quella dei genitori della vittima. Annuncia iniziative di assistenza alle vittime per assicurare loro informazione, sostegno psicologico e prevenire vittimizzazione secondaria, come la pubblicazione annuale di avvisi di finanziamento alle regioni per interventi di assistenza con risorse permanenti stanziate attraverso la legge di bilancio. E poi la circolare invece di Valditara con le parole del papà di Giulia, Giulio Cecchettin, che appunto pronunciate durante il funerale della figlia, l'educazione al rispetto, parola d'ordine per prevenire quelle forme odiose di aggressione verso le donne e tutti i soggetti deboli, va iniziata in famiglia, anche con l'esempio, dice, ma non nasconde che quei reati sono i più difficili da accertare, proprio perché avvengono nell'ombra, ai momenti e luoghi isolati, spesso senza lasciare traccia. Talvolta connotati da denunce strumentali, infine Chiosa, solo quando capiremo che l'interlocutore siamo noi, allo specchio, avremo raggiunto il grado di civiltà tale ed eliminare il marchio di Caino nella violenza iscritto nel Codice dell'Uomo. La scuola può aiutare il ministro dell'istruzione, Valditara intende portare subito all'attenzione delle scuole il discorso di Gino Cecchettin, il papà di Giulia, il discorso pronunciato appunto durante il funerale della figlia e lo scrive in una circolare il ministro. Le scuole potranno organizzare nella loro autonomia momenti di riflessione e di approfondimento sul significato del discorso e sull'affermazione della cultura del rispetto. Una voce, un'intenzione, quella del ministro dell'istruzione Valditara ha già circolato nei giorni scorsi, proprio nata anche da quanto accaduto a Giulia Cecchettin, quanto smosso poi soprattutto nell'opinione pubblica si è aperto un grandissimo dibattito sul caso, anche svegliando molte coscienze evidentemente, molti però, soprattutto l'opposizione, attacca il ministro di una circolare vaga, il fatto, soprattutto attaccano questa frase, le scuole potranno organizzare nella loro autonomia e appunto le opposizioni dicono nella loro autonomia, non si capisce appunto che iniziative possano prendere, in che modo lo possano fare, sottolineano l'aspetto vago di una circolare che invece secondo l'opposizione dovrebbe essere stata messa più nel dettaglio per avere strumenti chiari. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Pronto, buongiorno, sentami, scusi, io chiedo una cosa che è fuori un po' di fuori il programma che state facendo, ma magari siete in grado di aiutarmi, io vorrei vedere il canale della tv ambrosiana dove posso vedere la messa dell'arcivescovo in Sant'Ambrogio, non riesco a trovare il canale, il canale era 195, voi sapete se è cambiato, se voi lo trasmettete o se qualcun altro lo trasmette? Guardi signora, io così a memoria non la so aiutare, mi verrebbe in mente di dirle di cercare sul web, su internet, se riesce, così a memoria non la so aiutare. Mi dispiace, grazie. E continuiamo appunto, vi stavo raccontando dello scontro, della dibattita aperto tra maggioranza opposizione a proposito di questa circolare, circolare voluta appunto dal ministro delle istruzioni, dopo il caso Giulia Cecchettin, non è l'unico ma un caso che ha scosso l'Italia da nord a sud, un grandissimo dibattito all'interno dell'opinione pubblica, anche all'interno appunto delle forze di governo, una circolare accusata dall'opposizione di essere vaga perché lascia il compito alle scuole di organizzare in autonomia una serie di iniziative sempre volte appunto all'educazione al rispetto, ma il fatto di non avere indicazioni e strumenti precisi, secondo l'opposizione limita comunque la stessa circolare voluta dal ministro. Siamo sull'Ansa, ve l'avevo detto in apertura invece un articolo che parla del ponte dell'Immacolata con i dati della Conf Commercio che fa sapere appunto che saranno 7 milioni le persone in viaggio, il 18% in vacanza all'estero, un weekend lungo dell'8 dicembre, almeno una notte strutture turistico-ricettive e case in affitto a brevi, numeri in linea con lo scorso anno, quindi con il 2022, ma si riduce la spesa. Allora andiamo a vedere i dati nel dettaglio, i dati ricordo della Conf Commercio, numeri in linea con il 2022, ma si riduce appunto la spesa, 7 milioni gli italiani che per il weekend lungo dell'8 dicembre pernotteranno almeno una notte strutture turistico-ricettive e case in affitto a brevi, per una spesa di circa 2 miliardi e 700 mila euro, un ponte che nel 75% dei casi non supera i tre giorni con due pernottamenti, numeri in linea con lo scorso anno, anche se tendenzialmente si riduce la spesa media, le vacanze all'estero sono invece in aumento dall'11 al 18%, soprattutto tra giovani, single e chi opta per una vacanza più lunga emerge dall'osservatorio turismo di Conf Commercio sulle vacanze degli italiani realizzati in collaborazione con SVG. Un sentimento delle famiglie che secondo appunto la Conf Commercio mostra due atteggiamenti diversi, da una parte la voglia di un ritorno alle abitudini pre-pandemiche, dall'altra un'incertezza dettata dallo scenario internazionale che nell'ultimo mese ha portato circa 500 mila italiani a rinunciare ad un viaggio che si stava programmando. Più in generale oltre la metà degli intervistati dichiara che nel periodo invernale, per quanto sia intenzionato a fare una vacanza, prenderà la decisione finale solo all'ultimo aumento in base alle offerte che potrà trovare città d'arte, grandi città, località di montagna e ancora destinazioni della costa. Sono in cima le scelte di chi parte, dove però il brusco cambiamento del meteo con temperature più rigide e buone condizioni di innevamento in quota favorirà la corsa all'ultimo momento verso appunto le destinazioni montane. Senza dimenticare poi ancora l'effetto invece mercatini di Natale, oramai da tempo non più appannaggio esclusivo dell'arco, del solo arco alpino, ma diventato elemento valorizzante dell'offerta di buona parte poi delle città di arte e molte aree anche del centro-sud, dalla Campania all'Umbria al Lazio, che insieme alla Lombardia e al Piemonte costituiscono la top five delle regioni scelte per chi viaggia e anche chi sceglie l'estero è fortemente attratto dall'atmosfera prenatalizia delle grandi capitali e quindi Francia, Germania, Austria, Regno Unito, se non addirittura appunto New York per chi invece punta oltreoceano. Torna però a strezzare gli occhi agli italiani anche l'esotico a portata di mano del Mar Rosso. Intanto stiamo appunto vedendo, grazie all'aiuto della regia, ecco le immagini, forse sta per arrivare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo vedete, le autorità schierate. Adesso riusciamo a vedere, sì, sta arrivando, ecco la Premier. Tutte le attività schierate dal Presidente della Regione Lombardia al Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, ecco la stretta di mano tra il Presidente Fontana e la Premier Giorgia Meloni. Tanti temi sul tavolo, oggi verrà firmato, come vi dicevo prima, l'accordo tra il Governo italiano e la Regione Lombardia, accordo di sviluppo e coesione. Ora, secondo programma, la Premier dovrebbe dirigersi direttamente nella sala della firma dell'accordo, ma noi proveremo a fermarla. C'è anche il Ministro Fitto, lo ricordiamo, che si occupa appunto della questione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ad accompagnare la Premier. Presidente, a noi per favore. Presidente, a noi per favore. Niente, come immaginavamo, ha detto ci vediamo dopo, dunque la raggiungiamo nella sala dove verrà firmato l'accordo. Vittoria, ti richiederò la linea breve perché ora dovremo correre appunto nella sala della firma. Vai anche Silvia, raggiunge appunto la sala stampa dove la Premier, Giorgia Meloni, appunto firmerà quest'atto importante, lo abbiamo visto al centro, i temi sono quelli che riguardano la rigenerazione urbana, l'università, il sistema del trasporto pubblico, quindi i temi importanti di cui si parlerà. In parte li ha già accennati in apertura della trasmissione, intervistato ai nostri microfoni il governatore Lombardo Attilio Fontana. Seguiremo appunto quello che sta accadendo, intanto abbiamo visto la stretta di mano con le autorità regionali, in primis appunto il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e la Premier, Giorgia Meloni, accompagnata anche dal Ministro Fitto che si occupa appunto della delicata questione che riguarda il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Seguiremo appunto i lavori, vedremo le immagini di questa importante firma e soprattutto seguiremo anche gli aggiornamenti evidentemente su quelli che sono poi i temi di attualità con le domande che potrebbero essere fatte. Ora ci fermiamo soltanto per qualche istante, a tra pochissimo. E TG più Today ben ritrovati con la seconda parte della trasmissione e ci siamo lasciati con le immagini della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivata appunto alla fiera di Milano-Rò per firmare questo importante patto che di fatto sblocca appunto i fondi necessari per lo sviluppo e la coesione con la Lombardia. Al centro i temi che riguardano le scuole, l'università in particolare, poi ancora i trasporti e le infrastrutture. Un tema molto sentito soprattutto sul territorio lombardo. Abbiamo visto la stretta di mano con le autorità regionali, in particolare appunto con Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia. Poi un passaggio, una passerella veloce, quella della Premiera Giorgia Meloni che subito è entrata all'interno della sala, la sala stampa dove avverrà la firma di fronte appunto alle telecamere e fotografi e poi evidentemente potrebbe tenere un punto stampa proprio per rispondere alle domande dei cronisti. Seguiremo appunto quanto sta accadendo a Milano con Silvia Legnani sul posto per eventuali collegamenti e soprattutto per capire quali sono le questioni oggi che saranno proprio sul tavolo in cui si siederanno sia la Premiera Giorgia Meloni che il governatore Lombardo Attilio Fontana. In parte il governatore ha già parlato di temi importanti per il territorio Lombardo. In primis quello di cui si discute oggi, di cui si firma appunto questo accordo, sia i trasporti e le infrastrutture. Poi il governatore Lombardo ha ancora parlato di sanità soprattutto appunto per quanto riguarda le lunghe liste di attesa e anche la grave emorragia di medici e infermieri che soprattutto nei territori di confine vanno a lavorare oltre confine il caso svizzero proprio perché ha tratti ovviamente da maggiori stipendi a differenza appunto di quelli italiani. Stavamo leggendo però anche quelli che sono i dati per il ponte dell'8 dicembre, il ponte dell'Immacolata. Allora prima però di leggere i dati e quindi riprendere quelle che poi sono le stime di Confcommercio. Do il buongiorno e il benvenuto a Mauro Del Barba, deputato Italia Viva. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a lei telespettatori. Allora io mi ricollego subito alle parole del governatore Lombardo Attilio Fontana. Non so se ha avuto modo di sentirla ai nostri microfoni. È intervenuto sui trasporti e le infrastrutture. Di fatto ha detto servono infrastrutture nuove. Quelle che abbiamo non riescono a garantire comunque il passaggio costante di treni. La regione ha investito su nuovi convogli in arrivo. Mentre dall'altra parte le infrastrutture lombarde di competenza di RFI non hanno subito ancora cambiamenti o potenziate nonostante un accordo che lui ha stimato in 14 miliardi di euro in cui era previsto di partire già con il rinnovo di queste infrastrutture per poi rendere possibile il passaggio di più treni. In fondo l'obiettivo è quello di cercare quantomeno di diminuire i disservizi sul territorio che purtroppo sappiamo essere quotidiani. Ecco una battuta veloce su questo. No, non sono d'accordo col Presidente Fontana. È il classico rimpallo di responsabilità che però deve cessare. Arriva chiaramente nel momento in cui, forse pochi lo sanno, si va a rinnovare il contratto di servizio con Trenord, cosa che invece noi riteniamo sbagliata. Trenord ha chiaramente fallito, i numeri sono lì a dimostrarlo. Noi riteniamo che intanto questo processo avrebbe dovuto essere più trasparente mentre la decisione di rinnovare non è nemmeno passata nella commissione regionale competente dove abbiamo i nostri consiglieri regionali. Ma soprattutto, ed è sotto gli occhi di tutti, c'è una totale incapacità di gestione del servizio. Io poi ho parlato e parlo spesso con RFI. Sicuramente da parte di RFI ci sono dei ritardi, ma non sono tali da giustificare quello che abbiamo visto in questi anni. E una regione seria come la Lombardia deve smetterla di cercare pretesti e deve essere in grado di lavorare al tavolo con RFI per tempo e non camparlo come alibi e come scusa. Non va assolutamente bene. Chiaro, chiaro il suo pensiero. Un'altra questione fondamentale è quella che riguarda la sanità, l'emorragia di medici e infermieri soprattutto dai territori di confine o tratti appunto da stipendi maggiori. Il caso Svizzera lo ripetiamo tante volte e poi l'appello che è stato lanciato nelle scorse ore quando c'è stata appunto la manifestazione, lo sciopero del mondo sanitario per avere un sistema sanitario nazionale forte, non più in crisi, l'abbiamo detto, lunghe liste d'attesa, questa grave emorragia soprattutto nei territori di confine e soprattutto l'appello che hanno lanciato i medici, cioè che sempre più persone rinunciano alla fine a curarsi, perché bene o male quello che stiamo vivendo è che o si va in regime privato, quindi o si paga di tasca propria per avere un servizio sanitario, altrimenti sono sempre di più questo l'appello che arriva dal mondo appunto dei medici e degli infermieri sempre più persone rinunciano a curarsi. Sì, anche su questo è vero che nelle zone periferiche vi è una mancanza di personale più accentuata che non nelle zone densamente abitate, non solo nelle zone di confine. Quello che voglio dire è che ovviamente esiste il fenomeno del dumping salariale, ma non è quello che incide numericamente sulla scarsa disponibilità di medici, soprattutto di medici e anche di infermieri. È la scarsa attrattività dei luoghi periferici, anche non di confine, è la mancata programmazione e questa è una colpa nazionale, non solo regionale, ma la ragione su questo non ha fatto nulla per attenuare il fenomeno, la mancata programmazione sia delle lauree che poi della copertura dei posti nei vari ospedali e ultimamente però sono anche le politiche del centro-destra, perché dopo il Covid è stato evidente a tutti che di fronte a questi fenomeni si dovesse investire maggiormente nella sanità. Abbiamo sbagliato tutti nel non farlo in precedenza a sufficienza, perché tutti più o meno hanno confermato gli investimenti precedenti, era chiaro che lo si dovesse fare, abbiamo avuto un'enorme opportunità con il MES sanitario che per motivi esclusivamente ideologici e quindi elettorali è stato rifiutato. Senta, ecco, non so se ci senta ancora, un'ultima domanda di Barba, mi scusi se la interrompo perché siamo intanto in collegamento dalla fiera appunto Milano-Rò per l'arrivo della Premier Camminuti, proprio dovrebbe parlare. Un'ultima domanda, so che lei è rientrato da un viaggio compiuto appunto in Israele dove ha avuto modo di vedere quanto sta accadendo, cosa è avvenuto e soprattutto di capire cosa accadrà in queste ore. Lei sui social ha affidato questo messaggio, rientrato in Italia sarà uno strazio raccontare tutto quello che stiamo vedendo, è un dovere trasformarlo in azione politica. Ecco, come si può trasformare in azione politica? Sì, prima di tutto bisogna comprendere e io cercherò di aiutare i cittadini a farlo proprio attraverso i miei social nei prossimi giorni, comprendere che quello che è successo ha sconvolto l'animo degli israeliani perché si tratta di un vero e proprio pogrom, di una strage di ebrei compiuta in maniera disumana che nulla, proprio nulla, ha a che vedere col tradizionale conflitto israelo-palestinese e qui molti italiani non riescono a capirlo, che è perpetrato da fondamentalismo islamico e che sta creando le condizioni per la distruzione di Israele e per l'attacco all'Occidente. Detto questo, quando si capisce questo si può lavorare per interrompere quello che sta avvenendo a Gaza, la strage di altri innocenti, che è una strage che in questo momento gli israeliani stanno perpetrando perché è minacciata la loro esistenza. Allora la diplomazia internazionale deve lavorare per rimuovere dal tavolo la minaccia dell'esistenza di Israele, altrimenti non potrà essere fermata una strage degli innocenti che è veramente straziante. Grazie, grazie davvero per essere stato con noi a Mauro Del Barba, deputato Italia Viva. Grazie, buon lavoro e noi ci andiamo a collegare subito in diretta. ...con Regione Lombardia per realizzare questo accordo che ritengo molto molto importante. Un saluto a tutte le autorità, sindaci, parlamentari, assessori regionali, consiglieri regionali, Presidenti di ogni ordine e grado, grazie per essere oggi qui presenti. Dicevo, è un accordo molto importante, ma innanzitutto perché ci consente di omogeneizzare tutti i vari contributi che arrivano dall'Europa, a livello nazionale, a livello regionale, per evitare che ci possano essere delle sovrapposizioni, ci possano essere delle confusioni applicative. Noi con questo accordo sappiamo che la Regione Lombardia ha 1 miliardo e 200 milioni di risorse, risorse che verranno destinate per 710 milioni a nuove iniziative. 315 milioni cofinanzieranno iniziative già previste nel piano regionale 21-27 e 185 milioni per l'acquisto di nuovi treni. Sono risorse che consentiranno a Regione Lombardia di affrontare tre grandi macro aree, lo sviluppo delle infrastrutture e del trasporto, le università e la rigenerazione urbana. Sono ambiti molto importanti che consentiranno di far sì che la Regione Lombardia diventi e sia ancora più coesa, ancora più connessa, ancora più competitiva e ancora più attrattiva e continui a svolgere questo ruolo che svolge con grande impegno di essere una delle locomotive di questo Paese per fare in modo che possa contribuire a rilanciare l'intero Paese. Ecco, io voglio ringraziare la Presidente Giorgia Meloni perché tra le altre cose è venuto in un giorno che sono giorni particolarmente importanti per la nostra regione. Oggi si celebra Sant'Ambrogio, il patrono di Milano, santo al quale tutta la Lombardia e i milanesi in modo particolare sono molto legati. E poi perché è in corso la fiera dell'artigiano, l'artigiano in fiera, la più grande fiera mondiale di artigianato che vede presenti più di 2.500 espositori e un milione di persone fra i visitatori. Quindi è anche un bel modo per rappresentare, per dare la possibilità ai nostri grandi artigiani di rappresentarsi, di presentarsi con le loro eccellenze e con la loro grande capacità. Grazie quindi e auguri per le prossime festività. Abbiamo sentito le parole del Presidente di Regione Lombardia, Tilio Fontana. Lo avete sentito ancora una volta, ha ribadito i tre pilastri sui quali avviene proprio questo patto. Sta salendo intanto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Allora sentiamo le sue parole. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Sono particolarmente contenta di firmare questo accordo con la Regione Lombardia, questo accordo di coesione qui a Milano oggi, nella festa di Sant'Ambrogio. Ricorrenza particolarmente cara ai milanesi. Sono particolarmente contenta perché questo è il quinto accordo che noi firmiamo con una Regione italiana sulla base del lavoro che abbiamo fin qui portato avanti, ma è insieme a quello con la Regione Lazio, quello sul piano finanziario più significativo. E davvero voglio ringraziare intanto il Ministro Fitto che ha fatto un lavoro, sta facendo un lavoro estremamente prezioso. E poi ovviamente il Presidente Fontana, il Vicepresidente Alparone e tutti gli uffici che hanno lavorato a questo accordo. Dunque io mi permetto di fare un passo indietro per spiegare bene di che cosa stiamo parlando. Quello che noi firmiamo oggi si chiama accordo di coesione ed è in buona sostanza il risultato di un lavoro che questo Governo ha fatto di riorganizzazione dei fondi di coesione. I fondi di coesione sono fondi strutturali europei, sono organizzati su cicli pluriannale, servono a combattere ovviamente le disparità tra i territori, hanno un cofinanziamento a livello nazionale e sono dei fondi molto importanti. Il punto è che spesso era accaduto in passato, anche se non con la Regione Lombardia, diciamoci la verità, che questi fondi molto spesso non venissero utilizzati nella loro totalità. Cioè il paradosso di questa nazione è che mentre noi sappiamo che ci mancano risorse un po' dappertutto, molto spesso le risorse ci sono ma non vengono spese, o non vengono spese nei tempi o non vengono spese adeguatamente. Quindi il lavoro che questo Governo ha fatto dall'inizio del suo mandato, grazie come dicevo al contributo e alla determinazione del Ministro Fitto, è stato fare un punto con tutte le Regioni sullo stato di attuazione della precedente programmazione e sulle priorità della nuova programmazione di questi fondi europei. All'esito di questo lavoro che ci ha consentito di fare il quadro sulla realtà che c'era, noi abbiamo varato un decreto, che è il decreto Sud, nel quale riorganizziamo i fondi di coesione. Riorganizziamo questi fondi di coesione istituendo accordi di coesione con le singole Regioni. La particolarità di questi accordi è che le priorità vengono proposte dalla Regione ma devono essere condivise dal Governo nazionale. Non perché noi si voglia chiaramente limitare l'autonomia delle Regioni ma per fare in modo che queste risorse possano complessivamente far parte di un'unica grande strategia e si riesca a lavorare non come monadi ma come nazione nel suo complesso. Dopodiché istituiamo anche dei meccanismi di responsabilizzazione che prevedono da una parte la possibilità di definanziare progetti quando le risorse dovessero rischiare di non essere spese e anche di fare intervenire poteri sostitutivi per combattere e risolvere eventuali problemi di ritardi o lungaggini. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto a Monte che è un lavoro che si sposa con il lavoro fatto sul PNRR. All'inizio e quando questo Governo è nato io ho deciso di accorpare la competenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con la competenza dei fondi di coesione. Perché? Perché parliamo di due misure che possono in molti casi sovrapporsi. Cioè che sono fondi europei sono fondi europei che vengono prevalentemente utilizzati per finanziare priorità strategiche e se questi mondi non si parlano come tragicamente delle volte in Italia è stato non si riesce a lavorare tutti su un'unica direzione. parallelamente a questo lavoro sui fondi di coesione come sapete sempre grazie al Ministro Fitto abbiamo anche lavorato duramente lungamente sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza qui voglio dire che penso davvero che rispetto a come posso dire insomma no le valutazioni che erano state fatte da molti circa i rischi di perdere le risorse del PNRR i rischi che sarebbero potuti derivare da un eventuale folle intento di rinegoziare anche parti del PNRR mi pare che i risultati raccontino una realtà completamente diversa cioè la realtà di una politica che se presenta seriamente le sue priorità trova qualcuno che sia in grado di ascoltare e quindi la realtà oggi del PNRR è che noi abbiamo come sapete ricevuto la terza rata come sapete avuto l'ok sulla quarta rata del PNRR entro il 31 dicembre di quest'anno invieremo gli obiettivi della quinta rata del PNRR e in tutto questo abbiamo rinegoziato il PNRR inserendo all'interno del PNRR anche il capitolo sul Repower You per concentrare una parte di queste risorse che in molti casi ci aiutava anche a risolvere delle criticità su progetti che sarebbe stato alla fine difficile finanziare con le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo scelto di concentrarlo su quelle che sono le priorità mutate di una nazione che oggi si trova in un contesto completamente diverso da quello che c'era quando il PNRR fu scritto e abbiamo così liberato 21 miliardi di euro che abbiamo deciso di concentrare su alcune grandi priorità la prima di questa priorità penso che una regione come la Lombardia faccia piacere sono le imprese di questa nazione 12 miliardi dei fondi che noi abbiamo liberati vanno a sostenere il sistema produttivo ci sono per esempio 6,3 miliardi di euro su transizione 5.0 ma molte altre misure Presidente Bonomi ma molte altre misure perché quando noi abbiamo approvato la manovra giustamente qualcuno ha detto nella manovra c'è attenzione ai redditi, ai salari ma non c'è la necessaria attenzione alle imprese e non c'era perché noi stavamo facendo parallelamente un lavoro con il PNRR che avrebbe generato che avrebbe offerto queste risposte quindi 12 miliardi di euro sulle aziende ci sono priorità molto importanti che riguardano giovani, famiglie diritto allo studio, studentati e molte di queste iniziative ci sono nuovi fondi sulla sanità ci sono oltre 5 miliardi sulle infrastrutture di cui 2 miliardi sulle infrastrutture strategiche legate chiaramente alla nostra capacità di produzione energetica c'è moltissimo lavoro che facciamo nel nostro tentativo nella nostra scelta strategica di disegnare l'Italia anche come un potenziale hub di approvvigionamento energetico d'Europa e quindi lavoriamo per concentrarci su quelle priorità ci sono nuove risorse per le zone come voi sapete che sono state vittime di eventi catastrofali anche ultimamente penso in particolare all'Emilia Romagna insomma abbiamo fatto questo lavoro contemporaneamente al lavoro che facevamo sui fondi di coesione mi perdonerete se ho fatto questa lunga premessa ma io sono particolarmente fiera di questo lavoro perché quella parte del lavoro di un governo che è la più difficile che è quella che ti toglie più tempo e che è quella che nessuno ovviamente conosce e quindi vale la pena di dirsi quando si è lavorato tanto e si sono raggiunti dei risultati che sono stati raggiunti quei risultati sulla base di questo lavoro noi firmiamo oggi questo quinto accordo di coesione il quinto che noi firmiamo su tutto il territorio nazionale oggi pomeriggio sarò in Piemonte per firmare il sesto con il presidente della regione Piemonte dicevo è insieme a quello sulla regione Lazio il più significativo sul piano finanziario con l'accordo di oggi noi investiamo su questo territorio complessivamente un miliardo e 210 milioni di euro dei quali 185 erano già stati anticipati nel 2021 ma se a queste risorse aggiungiamo chiaramente le quote di cofinanziamento locale, regionale, nazionale e la capacità anche di attrarre investimenti privati del quale la regione Lombardia è particolarmente capace la somma totale supera il miliardo 860 milioni di euro quindi sono quasi 2 miliardi di euro che vengono investiti su questo territorio che noi abbiamo concentrato su poche priorità sono complessivamente 13 progetti sto andando a memoria e sono risorse che quindi non disperdiamo in mille rivoli ma che cerchiamo di concentrare su grandi iniziative queste grandi iniziative lo ha già detto il presidente Fontana rispondono sostanzialmente a tre priorità il potenziamento della mobilità ci sono 228 milioni di euro sui nuovi treni di cui 68 dedicati ai treni a idrogeno quindi anche diciamo sempre con una scelta che guarda al futuro e c'è un enorme lavoro che abbiamo fatto un grande lavoro che abbiamo fatto sul tema della riqualificazione urbana che riguarda la riqualificazione della stazione di Mitano Cadorna con un investimento di 435 milioni di euro un progetto da 300 milioni di euro per la riqualificazione di Palazzo Sistema che chiaramente servirà a caratterizzare ancora di più lo Skyline di Milano e che ospiterà la sede degli enti regionali a Busto Arsizio io sto citando chiaramente i principali ci sarà la realizzazione di un parco lineare con il recupero del vecchio tracciato ferroviario è un progetto che vale circa 26 milioni di euro e poi lo diceva il Presidente Fontane di questo io sono particolarmente orgogliosa c'è un pacchetto molto importante che è destinato al tema delle università della ricerca dell'istruzione che riguarda l'allestimento del nuovo campus dell'Università di Milano circa 142 milioni di euro di investimento il nuovo campus del Politecnico di Bovisa 60 milioni di euro di investimento la rigenerazione urbana del Polo di Chimica e Scienza del Farmaco dell'Università di Pavia e ci sono 60 milioni e questo è no scusate ci sono 60 milioni per realizzare il nuovo campus del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e questo è un progetto del quale io sono particolarmente del quale sono particolarmente orgogliosa perché il nuovo campus sorgerà a Rocoredo e a Rocoredo noi sappiamo che è spesso stata nota le cronache fuori diciamo da qui soprattutto per il tema del boschetto della droga ecco noi abbiamo deciso di fare questo investimento molto importante per un progetto di rigenerazione urbana estremamente innovativo che può segnare la rinascita di Rocoredo che così possiamo diciamo ricordare e conoscere non come boschetto della droga ma magari come boschetto della musica perché questo par questo questo campus è un campus che prevede cultura musica aule didattiche residenze universitarie laboratori sale di registrazioni per i giovani musiciste è chiaramente una occasione di riqualificare un quadrante importante che appunto ingiustamente è stato noto soprattutto per i fatti di cronaca e quindi come vedete c'è un progetto un progetto che si concentra sul tema della mobilità che si concentra sul tema delle infrastrutture che si concentra sul tema della riqualificazione urbana e che mentre fa riqualificazione urbana si occupa anche di diritto allo studio e io sono molto molto fiera e chiudo dell'accordo della serietà di questo accordo per il quale davvero ancora una volta ringrazio ringrazio tutti e continueremo ovviamente insieme a fare questo lavoro e tanto altro lavoro che faremo insieme anche monitorando diciamo l'attuazione ovviamente e la velocità d'attuazione di questi progetti che sono estremamente importanti quindi grazie davvero al presidente Fontana a tutta la regione Lombardia e grazie a tutti i sindaci e gli esponenti istituzionali che sono qui stamattina grazie queste le abbiamo sentite dunque le parole della premiera Giorgia Meloni seguiamo intanto con l'aiuto della regia le immagini in diretta tra poco evidentemente adesso la firma di questo accordo di coesione come ha ricordato la premiera un accordo il quinto nello specifico nel pomeriggio poi il sesto con Regione Piemonte lo vedete sul palco adesso ecco lo vediamo lo vediamo Vittoria è arrivato il presidente della regione Lombardia Tilio Fontana quindi che sta firmando proprio l'accordo l'accordo di coesione e sviluppo il quinto ha detto la premiera Meloni firmato sul territorio nazionale dopo appunto essere stata qui alla fiera di Milano Rò la premiera Meloni si recherà in Piemonte per firmare il sesto accordo di coesione e sviluppo con la regione Piemonte appunto il sesto firmato in Italia vediamo la stretta di mano tra la premiera Meloni e il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ecco sta salendo sul palco il ministro Fitto ricordiamo che ha le delega appunto allo sviluppo e cosione nonché alla PNRR RR infatti lo ha ricordato anche la premier proprio nel suo intervento ora vediamo se ci sono non c'è spazio per le domande dei giornalisti ok la premier sta lasciando la sala esatto allora cerchiamo di capire se c'è un punto stampa intanto noi lasciamo andare le immagini della della premier così diamo modo anche a te Silvia di riuscire a capire se è possibile fare eventualmente qualche domanda lo abbiamo sentito dalle parole di Giorgio Meloni il quinto patto di sviluppo e cosione al centro tre i temi macro tremi potremmo dire scelti appunto su regione Lombardia un pacchetto di risorse importante parliamo di un miliarde 210 milioni addetto alla premier alla quale poi se vengono aggiunti fondi regionali ed altri fondi europei si arriva quasi alla cifra di 2 miliardi un miliardo e 800 mila euro aggiunta ancora il presidente del consiglio Giorgio Meloni tre le macro aree che riguardano in particolare la mobilità le infrastrutture e trasporti l'università e poi la rigenerazione urbana per quanto riguarda le infrastrutture e trasporti la premier Meloni ha parlato appunto dell'arrivo di nuovi treni nuovi convogli sul territorio lombardo in particolare appunto ha parlato anche di treni ad idrogeno per quanto riguarda invece il pacchetto sull'università la costruzione del nuovo campus a Milano nella zona di Rogoredo lo abbiamo sentito dalle parole del presidente del consiglio intanto vedo dalle immagini che si sta svuotando la sala evidentemente non ha avuto modo di fermarsi con i cronisti comunque il nuovo campus di Milano nella zona di Rogoredo la premier ha detto spesso appunto conosciuto alle cronache per episodi di spaccio e violenza vogliamo costruire il boschetto della musica a differenza del boschetto della droga come spesso appunto è stato ribattezzato dai purtroppo tristi episodi di cronaca e poi ancora la rigenerazione urbana in questo caso appunto ha parlato in particolare ha fatto alcuni esempi per esempio la stazione la riqualificazione appunto della stazione di Milano Cadorna e poi il palazzo sistema questo è insomma il pacchetto di misure tre macro aree importanti sulle quali occorre è necessario investire un lavoro come appunto ha detto ancora una volta il presidente del consiglio Meloni che è andato di pari passo poi con quello che è stato il lavoro del ministro Fitto per il piano nazionale di ripresa e resilienza il PNRR durante il suo discorso ha dato anche una sorta di cronoprogramma di come sta andando una questione davvero molto delicata per il nostro paese che riguarda proprio i fondi stanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza per tutta una serie di progetti all'interno della realtà italiana lei ha detto abbiamo avuto ricevuto la terza rata e abbiamo ottenuto anche l'ok per la quarta entro il termine del mese di dicembre al 31 dicembre invieremo gli obiettivi che il governo intende realizzare per la quinta rata del PNRR e poi ancora una serie di misure una serie di risorse stanziate per il territorio da nord a sud d'Italia e poi l'importanza appunto ha sottolineato ancora Giorgio Meloni nel suo discorso di dare questi di firmare questi accordi di sviluppo e cosione proprio non su un elenco di temi ma su pochi temi in maniera tale da concentrarsi e da investire le risorse su questi in particolare per la Lombardia ancora una volta lo sottolineiamo si tratta in questo caso dell'università della rigenerazione urbana e poi del trasporti e delle infrastrutture in palio un miliardo e 210 milioni appunto di euro questa la cifra stanziata da questo accordo per tentare di mettere mano a questi tre grandi macro aree che devono essere poi inoltre realizzati lo abbiamo sentito dalle sue parole in tempi certi non deve esserci uno spreco di denaro come è avvenuto in passato ha detto ancora la premier Meloni e soprattutto ha detto il governo vigilerà anche sulle regioni su quanto stanno facendo in questa direzione proprio per assicurarsi che queste importanti risorse importanti fondi non vengano non vengano dispersi o comunque non vengano spesi e restino appunto accantonati senza poi metterli in atto e poi ancora sempre nel suo discorso la premier ha ricordato l'importanza appunto di aver lavorato di pari passo da una parte con approfondire quello che era un po' il quadro del italiano appunto di questi progetti che rientrano all'atterno dell'accordo appunto di coesione e sviluppo e di pari passo anche con quello che invece riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza siamo davvero in chiusura prima però di salutarvi facciamo il punto sulle notizie del traffico in collaborazione con Anas è presente un'unica segnalazione che ci porta sulla statale 9 via Emilia corsia chiusa a causa incidente a incrocio Forlin Popoli per restare aggiornati e avere informazioni in tempo reale è possibile consultare il sito stradeanas.it o chiamare l'800 841 148 è termina qui etgp2day vi ricordo l'appuntamento con l'informazione con la prima edizione del telegiornale a partire dalle 12.30 grazie per averci seguito e una buona giornata per averci seguito